Ancora un altro aggravio di 1.000 euro di tasse nel 2013 per le microimprese è questa la molla che sta facendo mobilitare ben 8.000 tra artigiani e commercianti veneti che stanno partendo in queste ore per raggiungere la capitale e dare vita domani ad una giornata storica per l'Italia del dopoguerra. Sarà la protesta dei nodi finiti tutti sul pettine la pressione fiscale non deve più salire fino al 63% come ora la burocrazia non deve più trattare gli imprenditori come dei nemici e basta con gli sprechi il denaro va usato per incentivare l'imprenditoria senza cui la pubblica amministrazione è destinata ad affogare. Queste le richieste per fermare la moria di aziende tra il 2008 e il 2013 hanno chiuso bottega 134.000 tra artigiani e commercianti secondo le stime della CGA di Mestre e molte di queste sono vittime della burocrazia non della crisi. Sì perché dopo il 2009 l'anno nero per tutte le economie del mondo Stati Uniti, Giappone e tutti i paesi dell'Unione Europea hanno avuto un ottimo tempo di reazione hanno messo sul piatto incentivi e offerto una burocrazia più snella. Sono ripartiti tutti ad eccezione dell'Italia. La diagnosi è unanime nel momento in cui gli imprenditori avevano bisogno di impiegati pubblici disponibili negli uffici di banche più vicini al territorio si sono trovati un muro e sono stati gli unici a trovarlo. Non è vero che il governo ha bisogno di giovani con idee nuove, c'è bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di svecchiare la burocrazia. Le idee nuove le hanno i nostri imprenditori, da sempre i più creativi del pianeta.